Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, oggi vi farò vedere un nuovo sistema di informazioni, un nuovo sistema di infotainment nelle nostre Audi, in questa cosa parliamo di un Audi A4 con sistema Symfony, per chi non ha come me un sistema MMI è possibile installare in alternativa questo sistema Android che indifferentemente da tutto non ci comporta il sistema originale della nostra macchina, per farvi un esempio adesso sto utilizzando la radio, possiamo tranquillamente utilizzare tutte le nostre medie, qua abbiamo un caricatore, lsd e quant'altro, informazioni della macchina, le informazioni di car, il setup della macchina e quant'altro, per utilizzare il nostro sistema Android è semplicissimo, basta che in questo caso, in questo modulo abbiamo installato, andiamo in media e selezioniamo lettore audio esterno attiviamo e basta schiacciare sullo schermo in qualsiasi punto, ecco qua e ci permette di entrare nel sistema Android l'utilizzo e la facilità di questo sistema che oltre a impostare e poter fare quello che vogliamo e anche touch tranquillamente possiamo andare su YouTube, sul mio canale abbiamo l'impostazione, l'applicazione, il bluetooth in questo modo, in questo, in questo diciamo AUKUS, potete mettere qualsiasi fonte che voi volete, in questo modo abbiamo messo la camera anteriori, vedete? oppure possiamo utilizzare il navigatore, in questo modo dobbiamo scaricare il TomTom abbiamo appena scaricato il TomTom, ecco qua, perfetto e l'abbiamo appena installato, ci diceva di scaricare le mappe e quant'altro perfetto tutto è come un sistema di telefonino, funziona come un telefonino, abbiamo l'Android e quindi possiamo tranquillamente scaricare tutto ciò che vogliamo da YouTube alle altre applicazioni che ci fanno comodo in macchina in questo caso abbiamo la radio, abbiamo sempre la media che oltre che all'SD all'interno di questo schermo qua ci sta la possibilità di mettere un archivetto USB, quindi montare su dei film, delle canzoni, delle foto che noi vogliamo riprodurre all'interno del nostro sistema poi per di più abbiamo la possibilità che oltre con la telecamera anteriore andiamo a mettere la retromarcia e abbiamo la telecamera posteriore con le linee di guida attiva, adesso vi faccio vedere perfetto che nel momento in cui andiamo a girare o a sinistra o invece invece andiamo a girare a destra giustamente le linee di guida si attivano entrambi i lati oltre tutte queste impostazioni qua, noi per il momento vi faccio vedere un'impostazione alla volta questa è quella radio che vi dicevo prima queste qua sono le media, o l'Sd o l'USB andiamo ai video musicali e andiamo a mettere una qualsiasi canzone l'utilità e la facilità di questo sistema è che noi tranquillamente non perdiamo i comandi alla volante cioè nel momento in cui a noi interessa o abbassare o alzare il volume ciò rimane così anche quando siamo alla guida non ci comporta, comunque non ci non ci fa togliere le mani dal volante per alzare e abbassare il volume o comunque per cambiare l'eleganza, tranquillamente dal dai comandi al volante possiamo fare queste funzioni qua in più abbiamo il microfono per poterlo utilizzarmi con il bluetooth il gps installato qua e poi anche il wifi poi abbiamo youtube che tranquillamente possiamo andare lì a vedere qualsiasi video che vogliamo o mettere in pausa oppure possiamo tranquillamente allargare lo schermo perfetto un touch è abbastanza reattivo vedete che se vado con la destra non vado bene con la sinistra non vado bene perfetto ok questo qua come abbiamo detto prima l'abbiamo messo nella mano anteriore ecco qua questo qua è il bluetooth comodo per chiamare e quant'altro usciamo queste sono tutte le applicazioni che abbiamo adesso installato e comunque tranquillamente possiamo anche installare delle altre in più oltre tutte le applicazioni abbiamo sia Android il mirror link per la macchina sia Android Auto per il sistema Android e sia invece per l'Apple CarPlay cioè noi possiamo collegare sia il sistema operativo degli Android e sia il sistema operativo per quanto riguarda gli Apple tutti i telefoni Apple poi abbiamo Google abbiamo Chrome abbiamo tutte le applicazioni che vogliamo vedete ecco qua e qua clicchiamo qua e facciamo la stessa ricerca perfetto andiamo qua e ci colleghi direttamente vedete è abbastanza facile da utilizzare molto intuitivo un po' come i telefonini in realtà c'è il feedback è abbastanza positivo un giorno viaggerò per il mondo come foodblogger un giorno aprirò un ciringhito su una spiaggia un'idea ho altri piani ultimi i miei video quant'altro va poi andiamo nelle impostazioni dove ci porta la luminosità il volume del sistema il volume delle chiamate possiamo impostare il bluetooth cioè attivare e disattivare il bluetooth l'impostazione del wifi attivare e disattivare il wifi in più c'è anche la possibilità o di utilizzare un nostro telefono nel hotspot e quindi collegare il sistema al nostro telefono tramite l'hotspot o anche questo sistema qua si può mettere un SD all'interno con un sistema 4G e quindi collegarci direttamente a internet senza nessun telefono ad autorizzare un hotspot personale e poi abbiamo tutte le linee di cellulare tutte le altre impostazioni del video in movimento le linee di guida dell'elettracamera tutte queste posizioni che ci possono essere utili per quanto riguarda il sistema una cosa molto molto carina è questo guardate qua vi abbiamo il sistema esce proprio come fosse audio originale quindi ragazzi è un ottimo sistema ecco qua ecco qua l'abbiamo l'abbiamo provato in tutte le maniere l'abbiamo stressato per vedere il buon funzionamento questa qua penso lo vedete la pellicola che a giorni la togliamo e mettiamo il latino di vetro per proteggere bene il vetro al momento l'abbiamo tenuto per il cliente che comunque per sicurezza e per protezione ce la lasciamo tranquillamente voi non perdete né i comandi al volante né le funzioni origine della macchina in più oltre tutto questo al sistema symphony avete tutto un sistema android che è molto utile molto avanzato e molto facile da utilizzare una cosa che consiglio consiglio quasi a tutti in questo caso vedete che ci da la linea del telefono spenta perché giustamente non c'è un sd c'è una sim una sim card poi ciò non toglie che il momento in cui andiamo a fare a utilizzare alcune funzioni come fare per esempio media e quindi andiamo a selezionare una delle nostre canzoni che più ci piace ora ne metto una a caso dal display possiamo sia abbassare e alzare la luminosità così che sia la notte ci da fastidio tranquillamente abbassiamo la luminosità del video e viceversa da questa altra parte qua invece le canzoni l'audio abbassiamo o anche alziamo il suono della macchina rimane sempre bello limpido pulito e non ci da problemi di dissono anzi si sente anche meglio e per di più anche la facilità di utilizzo del schermo e del touch vi posso garantire che è veramente un ottimo prodotto poi per chi invece lo stesse questo qua siccome è un sistema che può essere utilizzata sia un A5 sia un A4 sia un Q5 noi tranquillamente possiamo andare in impostazione e quindi cambiare lo sfondo andiamo giù e andiamo nella foto auto ecco qua schermata principale possiamo scegliere bene una A3 una A4 una A4 B8 una A5 un Q5 e quant'altro adesso mettiamo un Q5 usciamo ecco qua ci esce il nostro Q5 o viceversa vogliamo andare nuovamente a cambiare e mettere un A8 avanti ecco qua Preface Live ecco qua ecco qua vedete voglio tornare a mettere la macchina originale faccio vedere andiamo sempre qua foto auto ecco qua questa qua è quella di prima vedete e vi posso garantire un buon affare comunque andare a mettere questo come vi ripeto non perdete tutte le funzioni originali e in più avete questo in più ok ragazzi per oggi è tutto se vi si trova cattiva informazione scrivetelo nei commenti iscrivetevi al canale condividete il video e attivate la campanella così da essere sempre aggiornati sui miei nuovi video ok ragazzi al prossimo video ciao ragazzi grazie grazie a tutti